Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Raccontatemi come state, fatemi sapere tutto. Ok. Oggi sono qui solo per voi, ups, per fare un video dove cercherò il più possibile di rilassarti. Ho preparato qualche trigger e spero di rilassarti tanto, 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 tanto. Ok. Chiedo scusa se per caso ci saranno un po' di rumori di sottofondo, ma io cercherò come sempre di toglierli tutti. Ok. Allora, l'unica cosa che posso dirti è indossa un paio di cuffie auricolari. Stenditi, stenditi sul tuo letto e magari chiudi gli occhi. Va bene, va bene. Io comincio perché non c'è assolutamente tempo da perdere. Ok. Il primo che ho selezionato è... Grr 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 gr grigligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligliglig Grrrrgrrrrrng Gratto, gratto, gratto 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 Gratto, gratto Gratto, gratto, gratto Ok dai basta Il prossimo Un trigger stupendo Abbiamo qui il nostro Amatissimo pennello e voglio fare un così un po' di visual trigger scusate se mi vedete guardare dietro ma perché ho il riflesso di ciò che sto facendo e vedo se sono all'interno dell'inquadratura scusate ok ok vi piace il brushing sul microfono? io trovo che non si senta praticamente nulla ok e posiamo anche il pennello adesso un altro trigger che adoro è fare ok 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 del tapping perché secondo me ci sta sempre a Con la sinistra è più difficile. Ok basta così, adesso ho qui uno spray, con dentro semplice acqua. Ok. Mi piacciono tantissimo i suoni che hanno con l'acqua. Oh boy. Ok. 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 Guarda il mio dito, è di qua. Adesso scegli uno delle tue dita e guardalo. Ok. Adesso dimmi quando le mie dita entrano nella tua visuale. Io parto qua da fuori, non le vedi. Mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino. Ok. Ne hai viste entrambe? Adesso guarda la punta del mio naso e io ti farò un po' di carezze, un po' di carezze, un po' di coccole, un po' di coccole. Stessa cosa, guarda sempre il mio naso. Un po' di caree, un po' di caree, un po' di coccole, un po' di coccole, un po' di coccole. Ok. Ok. Adesso ne prelevo un po' e te la applico. Mi prelevo un po' e vado con... La smago bene sulle dita e poi... Cascca, saccacca, saccaquaquaqu quattaca... Carezze, 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 carezze... Ok, la chiudo per l'ultimo trigger che farò, ovvero dei mouth sounds, ma utilizzando questo tubo qui. Va bene? Difficile prendere l'aria. Ok, la chiudo per l'ultimo, la chiudo per l'ultimo. Ok, dai, basta così. Cucu. Cucu. Adesso tocca, tocca a te. Va bene? Iscriviti al canale se sei nuovo o nuova per entrare a far parte della Ups Comedie. E diventare un Upsina se sei un maschietto, altrimenti un Upsina se sei una minuccia. Poi lascia un bel like. Se questo video ti è piaciuto, se ti è rilassato, commenta con quello che ti passa per la testa. E' molto importante commentare, così mi fate sapere appunto che cosa ne pensate di questo video. Se vi è piaciuto, che cosa potevo migliorare. Potete darmi insomma dei consigli. Spero non ci sia stato troppo caos, ecco. E già. Il video di oggi purtroppo finisce qui. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio. Di qua il mio video precedente. Di qua una mia playlist. Stai qua in basso il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai. Va bene? Io adesso ti mando un grande, 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 grande bacio. E noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Va bene, dai. Buonanotte. 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 Buonanotte.